Prevenire i tumori femminili con screening e vaccinazione. Nella giornata mondiale per la lotta contro il papillomavirus se ne è parlato a Venezia nel corso del convegno Papillomavirus lotta ai tumori per una cultura della prevenzione alla Scuola Grande San Marco, organizzato da Motore Sanità col patrocinio della Regione Veneto. Secondo recenti dati dell'Airtum, l'associazione italiana registri tumori, si stimano in Italia 2.700 nuovi casi di tumore del collo dell'utero o cervice uterina, dato in aumento dopo la momentanea sospensione dello screening durante la pandemia e causa oggi in Italia di più di 500 decessi all'anno. Parola d'ordine, prevenzione, informazione e vaccinazione precoce, come ha ricordato l'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin. E il Veneto è in prima linea. È importante, visto che è la giornata mondiale, continuarne a parlarle, far maturare questa consapevolezza, questa sensibilizzazione e informazione. I numeri sono numeri importanti. Noi abbiamo iniziato da molto tempo la vaccinazione, agli over 11 anni, e oggi abbiamo circa il 70% dei vaccinati, il 77% delle ragazze e il 72% dei maschi, quindi con numeri molto importanti in continua crescita. È chiaro che accanto a questo bisogna continuare a fare screening, prevenzione su chi non è vaccinato e continuare a mettere in campo tutte quelle azioni proprio di sensibilizzazione, informazione, anche se pensiamo insomma a quelli che sono i comportamenti corretti per quanto riguarda appunto i comportamenti sessuali che potrebbero portare nei giorni, in adolescenti, quindi prevenzione scolastica, prevenzione tramite la peer education che noi facciamo in tutte le scuole del Veneto, diventa fondamentale. La percentuale della popolazione vaccinata, maschi e femmine, prima dell'esordio sessuale deve aumentare, come evidenzia Walter Ricciardi, presidente Mission Board of Cancer. Il 90% degli uomini e delle donne si contagia prima o poi nella sua vita con il papillomavirus. Una parte di questi sviluppa un tumore, un tumore che può essere prevenuto con una vaccinazione. Il problema è che pochi si vaccinano. Il valore della vaccinazione non è percepito né a livello individuale né a livello sociale, e questo è un peccato perché di fatto ci sarebbero centinaia di vite che possono essere salvate. Attraverso la prevenzione primaria oggi si può efficacemente contrastare circa il 90% dei nuovi casi di tumore da HPV.